Quattro vittorie in cinque partite, il Brindisi vince e convince e si guadagna meritatamente la vetta della classifica e anche l'etichetta di mega sorpresa di questo campionato. La formazione bianco-azzurra batte anche il grumentum in un Fanuzzi inspiegabilmente semivuoto. Prosegue la protesta della curva sud contro le ultime decisioni delle autorità competenti in materia di trasferte e non solo. Le squadre scendono in campo con la casacca Aido, un messaggio in favore della donazione degli organi. Partita vivace e piena di occasioni, il Brindisi prova subito a premere sull'acceleratore al sesto minuto stafilata di Boccadamo che si stampa sul palo bianco-azzurri ad un passo dal vantaggio. Il gol arriva al minuto numero 14 e lo timbra il capitano Dino Marino. Bellissimo il tiro a giro con il palone che si insacca nell'angolino alla sinistra dell'estremo difensore del grumentum. La compagine Lucana si affida soprattutto ai contropiedi di Falco come avviene al minuto numero 28. Ma il Brindisi a colpire ancora alla mezz'ora, trentesimo minuto c'è il raddoppio firmato da Hannibal Montaldi. Cross di Sorrentino e lo stacco di Montaldi che trova la seconda rete consecutiva in campionato. Brindisi 2, Grumentum 0, sembra finita e invece la formazione ospite prende coraggio. Trentaduesimo, Cavalieri di testa su cross del solito Falco, riapre la partita. Brindisi 2, Grumentum 1, non c'è un attimo di respiro. Il Grumentum ci prova ancora al trentaquattresimo con la palombella di Lobosco. La Cirignola si rifugia in calcio d'angolo. La gara prosegue nei minuti di recupero del primo tempo. Quarantaseiesimo, Falco per il Grumentum, tiro cross, la Cirignola si salva e allo stesso minuto, ma sul fronte opposto, Montaldi ci prova dal limite, para l'estremo difensore del Grumentum. Lasciamo questo succosissimo primo tempo e passiamo alla ripresa. Terzo minuto, subito Grumentum, sempre con Falco, pallone deviato. Al ventesimo vibra la traversa colpita da Sorrentino che prova ad avvitarsi di prima intenzione dopo un pallone rubato da Montaldi. Brindisi vicinissimo al gol. Si fa spellere poi il presidente del Grumentum, Antonio Petraglia, per proteste. Trentaquattresimo ci prova il Grumentum con Cirelli, para in qualche modo e con qualche difficoltà la Cirignola. Nel finale prova a blindare il risultato il tecnico del Brindisi. Dentro Merito per Dancora e Lombardo per Galiano. Si rinforza così la corsia Mancina al quarantaduesimo. Opportunità per Masocco per il Brindisi e altre opportunità per il Brindisi sempre con Masocco. Clamorosa davvero questa al minuto numero quarantanove. Sette i minuti di recupero accordati dal direttore di gara. Non succederà più nulla. Il Brindisi supera il Grumentum e vola da solo in testa alla classifica.